Ben trovati con l'informazione di Napoli News, apriamo il giornale parlando di cronaca. Cortei armati per scortare i nonni paterni durante gli incontri con la nipotina e minacce e percosse alla madre anche per piccoli ritardi. Hanno documentato anche questo i carabinieri della compagnia di Torre del Greco durante le indagini su quanto è accaduto nella periferia di Napoli, tra una ragazza nata in una famiglia per bene e un rampollo del clan De Martino, famiglia malavitosa dell'area orientale di Napoli, dopo la nascita di una bambina che ora ha tre anni. Coordinati dalla DDA i militari hanno eseguito oggi nove arresti notificati anche ai nonni paterni della bimba e al padre già detenuto. I reati contestati sono a vario titolo atti persecutori, lesioni personali e di detenzione porto in luogo pubblico di arma da sparo. Gli accertamenti dei carabinieri di Cerco l'hanno consentito di scoprire che la famiglia De Martino ha fatto ricorso a pressioni e imposizioni divenute sempre più intimidatorie e provocatrici per garantirsi l'affidamento della bambina in totale assenza di alcuna regolamentazione giudiziaria. Dal 2019 al 2022 i casi di gonorrea sono raddoppiati, l'incremento dei casi di sifilide è più 20% mentre sono cresciuti del 25% quelli di clamidia. Dati allarmanti quelli dati dall'Istituto Superiore di Sanità che fotografano uno scenario davvero preoccupante, specie nell'universo giovanile. Il mancato utilizzo del preservativo e la scorretta vita sessuale in età giovanile stanno facendo proliferare malattie che si credeva ormai dimenticate. Per la gonorrea sono stati segnalati al sistema Sentinella circa 1200 casi che rispetto agli 820 del 2021 implicano un aumento del 50%. Per la sifilide siamo passati da 580 casi a 700 con un aumento del 20%. Anche la clamidia ha riscontrato un aumento da 800 casi nel 19 si è giunti nel 2022 a 993. L'aspetto più rilevante è il coinvolgimento giovanile, in particolare le ragazze under 25. La prevalenza della clamidia tra le giovani di questa fascia d'età è del 7% mentre Superiore ai 40 anni si attesta all'1%. In 3 casi su 4 l'infezione è asintomatica quindi molte ragazze non se ne accorgeranno per lungo tempo. La professoressa Maria Triassi ordinario di igiene e medicina preventiva alla Federico II lancia l'allarme. C'è un dato che molti giovani le ritengono superate appartenenti al passato e quindi non fanno più prevenzione. Passata la paura dell'AIDS che è diventata una malattia cronica diciamo quindi prevenibile, affrontabile, i giovani non hanno più paura delle malattie sessualmente trasmesse, si fa poca prevenzione anche nelle scuole e si rischia un ritorno in grande stile. L'uso del profilattico, questa è la misura più sicura. Da non sottovalutare anche la diffusione del papillomavirus HPV. In tantissime ragazze e ragazzi tendono a evitare la vaccinazione con conseguenze che possono essere preoccupanti. Se resistono delle sacche di soggetti suscettibili purtroppo questi diventano la riserva del virus e quindi stiamo registrando anche purtroppo ancora dei casi di carcinoma del collo dell'utero associati appunto alla presenza del papillomavirus. Conclusa a Sorrento la tre giorni di lavori dell'Assemblea Nazionale UCID presso il Teatro Sant'Antonio della Cattedrale Sorrentina. L'Unione Cristiana degli Imprenditori e Dirigenti promuove la dottrina sociale della Chiesa nel mondo dell'impresa e si è data appuntamento nella cittadina campana per riprendere il dialogo con la Chiesa, le istituzioni e le parti sociali. All'Assemblea riservata ai soci UCID ha fatto seguito la giornata aperta al pubblico dedicata al tema partecipazione e democrazia nelle imprese in cammino verso la cinquantesima edizione delle settimane sociali dei cattolici italiani. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato il presidente dell'UCID Gianluca Galletti. L'economia sta cambiando velocemente con un paradigma molto molto forte. Ci sono alcuni driver come l'intelligenza artificiale, la sostenibilità che stanno cambiando il ruolo dell'impresa. L'impresa non è più vista come un soggetto privato ma viene vista come un soggetto che deve interagire con le comunità in cui opera e deve mettere al centro le persone che lavorano nelle aziende stesse. C'è bisogno di promuovere un dialogo ampio che comprenda le istituzioni civili e quelle ecclesiastiche, soprattutto riguardo il mondo del lavoro riferito ai giovani. Questo è il pensiero di Stefania Brancaccio, segretario generale dell'UCID. I ragazzi, i giovani che vengono nelle aziende, sembra strano ma non vengono più guardando qual è la loro remunerazione che giustamente chiedono che sia buona, giusta e dignitosa, ma vogliono anche vedere come si sta in azienda. Alla discussione ha preso parte anche Amedeo Manzo, presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli, che sottolinea. Il rapporto con le banche deve essere un rapporto umano, un rapporto nutriente, fatto sul dialogo, sulle possibilità di sviluppo, che consentiranno ai nostri giovani di essere qui. Questo fatto con etica, non massimizzando il profitto, ma distribuendo opportunità sui nostri territori. Ci sono voluti vent'anni e più. Alla fine la politica è salita sul carro del Pride. È bastato che la leader del principale partito d'opposizione, Lish Line, ballasse su uno dei carri del corteo di Roma per far capire agli altri partiti che anche la comunità LGBT vota e i voti a cui puntare sono tanti. Basta vedere le immagini del Napoli Pride, dove per la prima volta si è vista sventolare tra le migliaia coloro arcobaleno anche una bandiera di Forza Italia, partito che al governo siede insieme a chi invece divide il mondo tra normali e non. Questo è il nostro carro, il carro che cambierà il paese. Questa è gente che vota e deve votare ancora di più. Se Forza Italia oggi sta qua, magari se vuole stare qua, lei sta a governo. Comincia a fare i diritti per le persone LGBT, un matrimone qualitario, ci faccia capire che veramente sta con noi. Sul carro del Pride quest'anno ha voluto salire anche per la prima volta il governatore della campagna Vincenzo De Luca, che a sinistra vive da tempo un conflitto con il suo partito d'appartenenza e non è un caso che sia lo stesso di Lish Line, che l'armonia del cosiddetto campo largo PD 5 Stelle possa ritrovarsi sui diritti civili, solo il tempo potrà dirlo. Le discriminazioni fanno male alla società. La società più inclusiva è quella più sicura perché non lascia indietro nessuno, non marginalizza nessuno, non discrimina nessuno. In un anno e mezzo con questo governo l'Italia è scivolata ancora più in basso nella classifica dei diritti LGBT qui a Plas in tutta Europa. Allora noi dobbiamo trovare unità fra le persone che condividono i valori fondamentali e dobbiamo fare un cammino che è ancora lungo per definire un programma credibile per la maggioranza degli italiani. Era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale, appuntamento a domani con la nostra informazione. Arrivederci. Grazie a tutti.